Ci siamo spostati al touchscreen per il nostro aggiornamento serale sulle notizie nazionali ed estere. Cominciamo da Lanza, in primo piano la guerra in Ucraina. Crosetto dice mezzi terrestri e batterie antimissile a Kiev, vertice di Ramstein voluto da Washington per concordare i nuovi aiuti da fornire al paese. Zelensky chiede i panzer da difesa e da combattimento. Il Cremlino dice l'Occidente si illude, i carri armati non serviranno a nulla. Berlino dice sui Leopard pro e contro non abbiamo ancora deciso. Dall'intelligence britannica arriva l'allarme sul gruppo Wagner. Conta fino a 50.000 combattenti sul territorio ucraino. È diventata una componente chiave del conflitto. Intanto allerta antiaerea in tutta l'Ucraina. E poi sulla Repubblica, commerciante di olive munito di coltello e incensurato. Che è Giovanni Luppino, autista di Matteo Messina Denaro. Aveva un incarico affidato nell'organizzazione mafiosa a persone di massima fiducia in grado di garantire segretezza, sicurezza ed affidabilità negli spostamenti. Poi andiamo su Sky TG24. La cronaca TikTok era arrestato per rapina e distorsione. Pubblicò video in cui maltrattava un gatto. Il ventenne di Castrocele è finito a domiciliare in seguito alla denuncia di un coetano che ha raccontato di aver subito una violenta aggressione da parte del giovane. Lo scorso novembre l'indagato aveva pubblicato un video divenuto virale su TikTok in cui prendeva a calci un gatto. E poi sul Corriere della Sera l'inchiesta Plus Valenze Juve ha chiesti nove punti di penalizzazione. Il verdetto arriverà in serata e c'è anche la side letter e la firma di Ronaldo alla Corte federale d'appello. Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi per Paratici, 16 per Agnelli, 12 per Nedved, Garimberti e arriva bene 10 per Cherubini. Questa era l'ultima notizia di questa sera. Adesso gli aggiornamenti meteo.